Colori, glamour e moda sono stati tra i protagonisti dei fashion days conclusici alla mongolfiera di Lecce. Un successo di pubblico probabilmente oltre ogni aspettativa, grazie soprattutto alla presenza annunciata nei giorni scorsi di Roberto Farnesi, il bel Alessandro della fiction Le Tre Rose di Eva. Un vero tripudio di fan di tutte le età. Farnesi si dice quasi stupito dal grande richiamo di pubblico, tale da causare rallentamenti sull'arteria stradale che porta al centro commerciale mongolfiera di Surbo. Insomma ce ne sono di serie per fortuna che hanno avuto un buon riscontro con il pubblico e questo è il risultato, ma fa piacere, guarda veramente questi eventi, i centri commerciali poi raggruppano le famiglie, la domenica eccetera, quindi è un buon punto d'incontro per chi fa il mio mestiere. Questa edizione delle Tre Rose di Eva avrà un lieto fine o dovranno procurarsi ancora tanti fazzolettini per piangere? Io credo tutte e due, secondo me, sarà molto emozionante ma avrà un lieto fine. Applausi e consensi anche per la moda in passerella, con bellissimi modelli e modelle che hanno presentato gli outfit e accessori di tendenza per l'autunno-inverno 2017-2018. E a proposito di accessori, tra gli ospiti anche Mad Muriani, event influencer, nonché testimonial di una nota azienda di fama mondiale di cappelli. Quest'anno l'accessorio immancabile è il cappello. Ovviamente io lo indosso sempre perché è il mio marchio e soprattutto perché l'accessorio è immancabile per questo inverno. Oggi indosso un bel Panama, ti piace? Questo è dipinto a mano. Però ci sono anche cappelli marinaio, c'è la tendenza della pelle, della vernice e soprattutto del rosso. Colori moda per l'autunno-inverno? Rosso, il black che è un evergreen ovviamente. E poi quest'anno abbiamo delle tonalità dell'arancio, anche molto interessante perché dà molto luce al viso. A caratterizzare questo primo fine settimana appena concluso, sfilate di moda, shooting fotografici e le vetrine animate, che hanno messo in vetrina modelli e modelle, vestiti di tutto punto, con le proposte in moda per questo autunno-inverno. È un successo straordinario. Ci aspettavamo, una grandissima affluenza, un buon successo, ma uno straordinario successo come questo no. Le presenze sono state altissime, oggi sono tante le persone che si sono recate in loco per l'ultima giornata di Fashion Gallery e alle 19 ci sarà la presenza di Roberto Farnesi, il protagonista della fiction Le tre rose di Eva. Abbiamo avuto un riscontro a livello regionale, tantissime persone calienti vengono da Bari, sono venuti da tutta quanta la provincia, da Brindisi, siamo veramente soddisfatti. Tira di più la moda o Farnesi per le signore? Io penso entrambi perché quest'anno abbiamo avuto un livello di modelli e modelli veramente molto molto alto. È stata molto apprezzata la moda in vetrina. Questo nuovo modo di pubblicizzare il fashion dove le modelle si istituiscono ai manichini e diventano dei manichini viventi.